4.000 casi di diabete accertati e solo due medici per gli ammalati gelesi. Ancora dati impressionanti emergono sul fronte della sanità e non si riesce a capire come mai in una realtà così importante l'ospedale di presidi dell'ASP vengano privati e il personale medico necessario a coprire le esigenze sanitarie dell'intera popolazione. La provincia nissena non è certo sprovvista di medici ma se da una parte si assiste ai continui incrementi presso realtà meno importanti dal punto di vista del bacino d'utenza, dall'altra si assiste alla depredazione nella sanità gelese. Oggi è saltato alla luce il caso della diabetologia grazie ai dati e alle denunce emerse nel corso del convegno sul tema il diabete nella terza età, prevenzione delle complicanze e le ricadute sociali. I diabetici gelesi si sentono abbandonati, gli unici due medici diabetologi impiegati nella sanità pubblica sono collocati uno presso l'azienda ospedaliera e l'altro presso l'ambulatorio di diabetologia in via Butera. I diabetici necessitano di controlli periodici e le liste d'attesa sono interminabili e gli ambulatori oltremodo affollati. Anche parlare di prevenzione diventa un optional per chi non può permettersi di ricorrere ad una visita privata per bypassare i tempi biblici delle liste d'attesa della sanità pubblica gelese. Sono emersi tante problematiche perché sono somminati tanti interventi di operatori ed altri. Abbiamo registrato questi punti di debolezza. Cercheremo di rappresentare con la CIS la funzione pubblica che si farà promotore di questa carenza di medici e ci auguriamo che interverranno in un modo forte con la direzione generale che subvennerà credo e spero a giorni e che possa focalizzare questa carenza di medici soprattutto diabetici che si occupi di diabetologia a Gela e che possono raddoppiare e replicare perché chiaramente quello che è emerso le liste d'attesa sono tantissime. Gela è la città più popolosa rispetto ad altre e quindi bisogna attenzionare di più. È chiaro non so che incidenza c'è in altre città sulla provincia di Caltanissetta. Quello che è emerso qua dobbiamo pensare di potenziare questi medici su Gela. E' quasi a confermare il sospetto di una cattiva gestione dei medici da parte dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta arriva per gli utenti del pronto soccorso gelese un bel regalo di Natale. Con una delibera firma del commissario straordinario Maria Grazia Furnari, del direttore sanitario Marcella Santino e del direttore amministrativo Antonio Palazzolo è stato ridotto il già precario organico del più importante pronto soccorso della provincia autorizzando il trasferimento di uno dei sette medici.